E' stata approvata proprio in questi giorni la nuova tassa di soggiorno per la città di Cortona, un balzello che d'ora in poi dovranno pagare i turisti che soggiorneranno nella città etrusca e che costerà a loro da 1 a 3,50 euro a persona al giorno, a seconda della categoria della struttura ricettiva che li ospita. Nell'appuntamento di oggi abbiamo parlato di questa tassa e dei risvolti che ne deriveranno con un giovane imprenditore del settore turistico, che insieme alla sua famiglia da qualche anno ha aperto con successo un bel agriturismo nel cuore della Valdichiana Cortonese. Lui si chiama Marco Merli, delle terre dei Cavalieri. Ascoltiamolo. Sei favorevole o contrario alla tassa di soggiorno e alla sua istituzione? Guarda, fondamentalmente siamo favorevoli per quanto riguarda le entrate sulle casse del comune, che comunque può portare a uno sviluppo maggiore per quanto riguarda il campo del turismo o comunque anche per infrastrutture o comunque per ristrutturazioni, che Cortona ora come ora ne ha, diciamo, un bisogno abbastanza, insomma, forte. Tuttavia, secondo me è un disincentivo da parte, insomma, per i turisti a venire a Cortona. Fondamentalmente la tassa di soggiorno è stata utilizzata in città come Roma, Venezia o Firenze, anche un po' per scremare il flusso turistico che c'è nell'altra stagione, che comunque raggiunge picchi abbastanza fondamentali. Inserire la Cortona, secondo me, può calare un po' il flusso turistico che abbiamo comunque da noi. Anche averla istituita ad aprile vi crea qualche difficoltà, voi operatori? Le prenotazioni comunque abbiamo già avuto. Resta per noi difficile comunicare agli ospiti che verranno da noi, che hanno prenotato con, diciamo, tasse incluse, il fatto che ci sarà la tassa di soggiorno. Anche perché poi non è irrisoria come tassa, è abbastanza, non pesante, però comunque può provocare dissensi per quanto riguarda i turisti. Ecco, parliamo di costi. Si parla di 1 euro o 3 euro e 50. La forbice potrebbe essere quella. Credi che appunto sia un costo non condivisibile dai turisti? Oddio, a Cortona possono spendere, volendo, anche 2 o 300 euro per un 4 stelle. Quindi non credo che 3 euro al giorno a persona si possa rivelare così, diciamo, pesante per le tasche dell'ospite. Però comunque può essere fastidioso il dover spendere ulteriormente. Anche perché abbiamo a Cortona hotel o comunque pensioni che si spende un terzo di un hotel a 4 stelle. E un turista va a cercare quello proprio perché vuole spendere di meno. Se in più aggiungiamo la tassa di soggiorno, secondo me il turista non viene proprio. Il rischio è che per le prenotazioni almeno già fatte la tassa di soggiorno andrà a gravare su voi strutture ricettive? Sicuramente almeno per le prime prenotazioni. Perché comunque l'ospite non è stato informato né da noi né tantomeno dall'agenzia della tassa di soggiorno. Di conseguenza ho paura che dovremo comunque sborsarlo noi. A proposito del lavoro di informazione per voi operatori del settore, c'è stato abbastanza raccordo tra voi? Ne avete parlato abbondantemente di questa tassa di soggiorno oppure vi è piovuta dal cielo? Ora, piovuta dal cielo? Non esattamente. Verso novembre, che più o meno è quando iniziamo a parlare della tassa di soggiorno all'interno del comune di Cortona, facciamo una riunione con la Commercia di Camucia alla quale si presentarono circa cinque strutture di Cortona e nonostante comunque siano diverse decine. Praticamente quella è stata l'unica volta in cui ci hanno comunicato dettagli riguardanti la tassa di soggiorno in realtà all'epoca ancora non sapevano nulla di come potesse funzionare. Di conseguenza poi ci hanno comunicato tramite varie email come si stava svolgendo il processo per mettere in funzione la tassa di soggiorno. E siamo arrivati con il decretare la messa in funzione della tassa di soggiorno senza opinioni da parte delle strutture ricettive. Marco, in chiusura di questa nostra chiacchierata qual è l'auspicio per questa tassa di soggiorno? Come speri che sia utilizzata? La speranza è che comunque questa tassa serva veramente a qualcosa che non sia comunque una mera interpretazione del turismo cartolina che Cortona sta offrendo da ormai diversi anni e comunque che vengano fatte seriamente delle opere pubbliche o comunque manifestazioni che portano più flusso turistico nel paese di Cortona.